Attenzione! Sto massacrando! Sei fottuto! Sono sicuro che stanno bene! E' opera del demonio, porca troia! Coprimi! Devo ricaricare! Culo! E' opera del demonio, porca troia! bürodontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Tookington unav에요��도lo soda hanno docente necess besser Oh, questo faceva male! Oh, sono in pensione! Ahahahah! Merda, merda! Credo di essermela fatta sotto! Ahahahah! Ah, merda! È opera del demonio, porca troia! Dove ti lascio? Dalla mia donna, Henrietta. Stan, fan culo! Chiedo scusa, scusi di puttana! Tempismo perfetto! Non puoi uccidermi! Sono lo scarafaggio! Il re scarafaggio! Enzo, sta calmo, tanto non ti sentono. Vaffanculo! Vaffanculo! Credo di essermela fatta sotto. Ha 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 ha! Si fa sul senso! Culo! Tolpito e affondato! Se non reggi il caldo! Ah! Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Se non reggi il caldo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non puoi uccidermi! Sono lo scarafaggio! Il re scarafaggio! Enzo, sta calmo, tanto non ti sentono. Vaffanculo! Grazie! È quello tuo figlio! Sto santo! Sto sbaglio! Ah, merda! È tutto vostro! È opera del demonio, porca troia! Ah, merda! È opera del demonio, porca troia! Ah, merda! A tutte le unità, il sospettato è estremamente pericoloso. Unità di rinforzo in arrivo. Dove ti lascio? Dalla mia donna, Henrietta. Sta nell'olo, al caro Selotel. È furba come una volpe. Ho lasciato un po' di roba da lei, per adesso dovrebbe bastarmi. E la vita continua. Sai che Sammy era fierissimo di te, vero? Non solo per le storie della guerra. Per come hai combattuto nella vita prima di arrivare a lui. Per come ti sei preso cura di Ellis. Per come hai aiutato Perla quando stava male. Ti ammirava. Non dimenticartelo mai. Quella merda di Sal non vale un'unghia di quello che valeva Sammy. A tutte le unità, il seguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare 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 in pattuglia. Covid excited. Capito, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e green Another Liquid Chissipek. Perci統 le ricerche e tornare in strada in unchallati. dai andiamo. Pare ci sia almeno uno stronzo sano di mente nel giro di Markano. Enzo Conti si è tirato fuori. Ora nessuno passa da Barclay Mills senza pagarci. Non abbiamo mai fatto tanti soldi da quando stiamo con te e siamo pronti a spremere fino all'ultimo centesimo da questa città. Ha senso che tu voglia essere sempre un passo avanti? Che tu non sia chiaro nelle tue intenzioni? Ma ti dirò che è dura per i nostri ragazzi giù in strada. Non sapere cosa gli appartiene e cosa no. L'ultima volta mi avevi chiamato tu. Perché? Perché sai che io faccio sempre il mio dovere. Sempre. Dammi le chiavi del regno, socio. Io e te non ci separeremo mai. Facciamocene una ragione. Eseguo gli ordini, Lincoln. Vorrà por dire qualcosa. Gli Etiani gestiranno questa parte. Ma guarda, sei fedele a Lollo. Un cambiamento del genere si percepirà in tutta la città. Finito. C'è quella puttana di sedia e una bottiglia di liquore ad aspettarmi. Se nessuno vuole, ci sono io. Ok, basta. È tutto. Grazie. Grazie.